Benvenuti nell'era del cliente. Ci sono dei brand, delle aziende, piuttosto che dei professionisti che ci entusiasmano. L'esperienza di lavoro che condividiamo è sorprendente e per loro ci troviamo a fare un passaparola gratuito senza che nemmeno ce lo chiedano. Insomma, meritano davvero un bel 9 o addirittura un 10. Sarà perché queste aziende rispondono al nostro bisogno e al nostro desiderio in modo così unico e adeguato che ci fanno sentire compresi. Quasi che anche loro avessero vissuto lo stesso bisogno e quindi avessero trovato quella risposta così perfetta. E si sa, quando ci sentiamo compresi, crolliamo. È così facile avere a che fare con queste aziende, con questi marchi, con questi professionisti, perché fanno sembrare semplici anche problemi complicatissimi. Ma soprattutto la cosa bella è che l'esperienza che fai con loro è piacevole. Sì, sono proprio brand, aziende, professionisti che ci entusiasmano. E a Worker parleremo di loro, di ciò che ci fanno vivere e soprattutto di come facciano a regalarci un'esperienza così eccezionale. Perché facciamo questo? Perché quest'anno a Worker a tema ci sarà il cliente. E se vogliamo davvero conquistare i nostri clienti, la prima cosa è comprendere come fa a entusiasmarci chi ci entusiasma noi per prima. Dimmi di chi sei entusiasta e capirai come entusiasmare. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Pensa e rifletti dunque su chi ti entusiasma e nel modulo di iscrizione a Worker scrivi qualcosa su chi è il tuo preferito e perché. E naturalmente porta anche lui a Worker. E nascerà un bene per la tua impresa. Ti aspettiamo, anzi, vi aspettiamo.